Hanno imparato l'arte sui banchi di scuola e poi l'hanno messa in pratica gli studenti del liceo artistico Buniva di Pinerolo, realizzando 16 opere di quasi di un metro per un metro che sono stati donati all'ospedale Edoardo Agnelli. Le opere serviranno per abbellire i corridoi del quarto piano. Abbiamo utilizzato dei materiali polimaterici semplici che si potevano incollare sulla tela come la carta, la carta smeriglio e anche dei materiali un po' inusuali come ad esempio la polenta, il semolino, dei semini vari, il tutto poi arricchito dalla foglia d'oro che è una tecnica che abbiamo ripreso dagli artisti ai quali abbiamo dato lo sguardo e soprattutto poi abbiamo decorato con del materiale vetroso che si utilizza proprio così per dare un pochino di luce. I ragazzi hanno preso sì lo spunto da questi grandi artisti però hanno elaborato moltissimo di loro iniziativa soprattutto pensando al luogo dove sarebbero stati esposti questi lavori. è stata una grande gioia per noi accogliere la richiesta della committenza perché oltre a dare una motivazione alla nostra progettazione e al nostro percorso scolastico o didattico aiuta i ragazzi a mettersi a confronto e a lavorare per il proprio territorio. Quanto hanno lavorato per questo progetto? Hanno lavorato 45 studenti, due classi.